I lavori di manutenzione straordinaria dell'intero viadotto Acragas sono già partiti. Il cantiere sta interessando per ora, il secondo tratto, quello di 800 metri, è attualmente percorribile con limitazioni di carico. A breve i lavori interesseranno anche il primo tratto, quello di 1400 metri finché sarà riaperto tutto alla viabilità parziale e infine completa. Tale obiettivo si potrà raggiungere entro due anni. I lavori rientrano nell'accordo quadro che prevede un investimento di ANAS pari a 30 milioni di euro per diversi interventi in territorio di agrigento, tra cui il viadotto Acragas. Con l'apertura del cantiere, dichiara il sindaco Lillo Firetto, non considero chiuso un capitolo perché per me lo sarà quando tutto il viadotto sarà percorribile di nuovo. Intanto, a seguito di convocazione del sindaco Firetto, è stato programmato per martedì della prossima settimana ad Agrigento un sopralluogo con i vertici regionali ANAS per verificare lo stato di attuazione dei principali cantieri che interessano il territorio agrigentino. In particolare oggetto dell'incontro sarà lo stato d'avanzamento del primo cantiere avviato sul viadotto Acragas e la tempistica per l'attivazione degli ulteriori interventi. Sarà verificato inoltre lo stato dei lavori sul viadotto Petrusa e sulla galleria Spinasanta. I lavori hanno avuto inizio dal viadotto Acragas 2, secondo cronoprogramma, chiarisce il sindaco Lillo Firetto, ossia da un tratto che è percorribile con divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. Un tratto che scarica notevolmente la viabilità cittadina perché collega via Dante allo stadio Esseneto e consente una rapida connessione tra la zona bassa e il centro città. Con un finanziamento di 35.000 euro, ANAS garantirà la progettazione per il miglioramento della viabilità integrativa dalla statale 115 ad Agrigento. Questa soluzione, frutto della pressione svolta dal Comune con i vertici dell'ANAS e sin dai primi confronti era stata accolta positivamente.